Con l'avanzare dell'estate torna sempre d'attualità la questione della qualità del mare di San Leone, quello che è considerato a tutti gli effetti il lido balneare di Agrigento e il luogo che viene raggiunto anche da tantissime persone provenienti da Caltanissette e da altri centri della nostra provincia. Sui social è stato infatti condiviso da parte di Giuseppe Di Rosa del Kodakons un video della durata di 1 minuto e 47 secondi, nel quale viene immortalata l'acqua schiumosa in un punto della spiaggia dove sono presenti degli scogli. Sempre nella stessa area si trova una piccola costruzione in cemento sotto la quale si scorgono rifiuti di diverso tipo abbandonati. E se da un lato il problema dell'acqua sporca andrebbe affrontato una volta per tutte da chi deve occuparsi del territorio, non si può taggere nemmeno dell'inciviltà delle persone che preferiscono abbandonare i rifiuti dove capita per non percorrere magari qualche decina di metri in cerca di un cestino o di un cassonetto oppure portare con sé i resti di pasti e bevute per poi smaltirli correttamente. Grazie Grazie